Hanno trovato il portone del dormitorio di piazza San Domenico chiuso e così a suon di calci e pugni lo hanno sfondato. Il violento episodio si è consumato nella notte tra sabato e domenica ad Arezzo. Una notte un po' agitata, c'è stato un momento di tensione e di criticità, l'unico peraltro in tanti mesi di presenza del dormitorio nella città di Arezzo, quindi è un fatto isolato che va ovviamente stigmatizzato ma che comunque va contestualizzato in mesi e quindi in tante notti di assoluta tranquillità e serenità. Attorno alla mezzanotte i quattro clochard, ospiti abituali hanno provato ad entrare ma ormai era troppo tardi. La chiusura del dormitorio nei locali del comune gestiti dalla Caritas scatta infatti alle 22.30. A quel punto si sono accaniti contro il portone. Due volontari che erano all'interno sono riusciti a gestire la situazione avvisando le forze dell'ordine sul posto polizia locale, polizia di Stato. Le regole in questi contesti non sono negoziabili, quindi il dormitorio ha un momento di apertura, un momento di chiusura e quando è chiuso è chiuso. I quattro sono stati così denunciati ed espulsi dal servizio. Il dormitorio questa notte ha riaperto come tutte le notti con un presidio della polizia locale affinché non si ripetano momenti di tensione. La polizia locale ieri sera è stata importante insieme agli operatori di strada ma semplicemente per dare un segno di attenzione più che di necessità. E' bene che le persone sappiano che quando una città si fa carico di questi temi e dà queste risposte è evidente che cose così possono capitare. Quindi chiudiamo il libro cuore e affrontiamo il tema con grande realismo.